La Regione Sicilia ha recepito in questi giorni un decreto del Ministero dei Beni Culturali che risale al 2016 e che riguarda l'istituzione di un apposito registro dove annotare gli aventi diritto all'ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici, gallerie, giardini monumentali. Nel registro vanno indicati data, nome e cognome della persona che usufrisce dell'ingresso gratuito, documento di riconoscimento, motivo del rilascio del biglietto gratuito o ridotto con la sigla del personale addetto alla segreteria. Tutte le pagine di questo registro, in vigore dal 3 settembre, vanno numerate e vidimate, così dispone la Regione Siciliana. La procedura di identificazione e di registrazione degli ingressi gratuiti sta causando ritardi alle biglietterie dei siti archeologici e dei musei siciliani, soprattutto in quelli più frequentati. E la procedura di identificazione dei visitatori e della relativa registrazione potrebbe anche configurare una violazione della privacy. L'argomento non mancherà di suscitare polemiche anche a causa dei disservizi che saranno costretti a patire i turisti, condannati spesso a lunghe code alle biglietterie.